Tratta dall'antologia Girandolando, Laura Capone editore, ecco la fiaba di Alessandro Porri, la storia di Tobias, l'elefante che si innamorò di una giraffa. C'era una volta uno zoo bellissimo nell'antica città di Mosul. Veramente c'erano tante cose belle nell'antica città di Mosul. Oggi sono poche le case rimaste in piedi. Ninive era questo il primitivo nome di quello che un tempo era un paradiso. Sono posti antichi questi, c'erano gli assiri qui. Me ne ha parlato tanto la mia maestra e c'era anche un fiume famoso come poi diventerà famoso il Tevere, il generoso Tigri. La lettera T ritornerà più volte in queste poche righe, infatti i protagonisti della nostra storia si chiameranno Tobias e Tecla. Voi ora vi starate chiedendo chi sono questi due personaggi, che cosa c'entra lo zoo, ma cosa lega queste due persone? Iniziamo col dire che Tobias e Tecla non hanno davvero sembianze umane. Forse sono gli esseri morfologicamente più distanti dall'uomo che madre natura abbia creato. Tobias è un elefante, Tecla una giraffa. A legarli sarà la cosa più pure antica del mondo, l'amore. Sì, avete capito bene, un elefante e una giraffa che si innamorano. Era una notte stellata, nulla lasciava presagire lo scempio che sarebbe accaduto da lì a poco. Nello zoo dell'antica città di Mosul quasi tutti gli abitanti dormivano. C'erano rapporti singolari tra loro, lo zoo permetteva infatti un po' a tutti di familiarizzare. Ecco che alcuni animali potevano così incontrarne altri che mai in natura avrebbero incontrato. Si faceva essenzialmente conoscenza con i vicini di casa, si scambiavano delle chiacchiere, ognuno raccontava le proprie storie, descriveva i propri luoghi di origine. C'erano poi i cuccioli, che poverini, avevano conosciuto solo quel piccolo luogo ed ascoltavano incuriositi e sognanti le descrizioni di ciò che c'era in là. Nella parte più alta della città degli animali c'erano due recinti confinanti, qui vivevano Tobias e Tecla. I due si facevano lunghissime chiacchierate, anche se purtroppo non riuscivano a guardarsi direttamente negli occhi per l'altezza e lo spessore delle barriere. A dir tutta la verità, Tecla, grazie al suo buffo collo, qualche sbirciatina dall'altra parte l'aveva data e almeno parte di quel suo burlone vicino di casa l'aveva potuta intravedere. Tutto sommato, pensava tra sé, non era un fatto, non era un tipo niente male. Non c'era giornata che non ridessero insieme, si accostavano al muro di confine e giù a raccontare aneddoti tra gli sguardi stupiti dei rispettivi compagni di recinto. Che ci troverà in quel grasso e buffo animale, pensavano le compagnie di Tecla, e poi quel naso così sgraziato. Purtroppo, spesso, l'essere vivente che per definizione dovrebbe occupare il posto più alto nella scala evolutiva, si dimostra la prova dei fatti essere ben altro. Erano le tre di notte di quella maledetta notte, quando dei lampi di luce schiarirono il cielo, gli animali si guardarono impauriti, qualcuno emise strani versi. Un istante e la stupidità umana diede l'ennesima prova di sé. Esplosioni distrussero parte della città e alcune bombe caddero anche sui poveri animali doppiamente in gabbia. Molti recinti crollarono, animali fino ad allora divisi vennero in questo modo a contatto tra di loro, accadde a questo punto un qualcosa di veramente speciale. Gli animali stabilirono un nobile patto, che anche se non dichiarato ufficialmente sarebbe stato rispettato da tutti. Nessun predatore si sarebbe permesso di attaccare prede neanche sotto lo stimolo della fame, che da lì a poche ore si sarebbe sicuramente presentato. Anzi, ognuno cercò di aiutare il compagno in difficoltà, cosa che ormai l'essere umano ha dimenticato da tempo. Tekla era rimasta intrappolata sotto le macerie, era sana, solo leggermente ferita, ma bloccata. Chiedeva aiuto al suo amico, che disperato però non poteva dargliene. Il suo recinto, infatti, era uno dei pochi rimasti intatti e non era in grado di raggiungerla. Passarono alcuni giorni, la città degli uomini era veramente ridotta male. Nessuno aveva il tempo di preoccuparsi degli animali ormai. Proseguirono altre giornate di bombardamenti e ogni volta qualcuna di quelle bombe intelligenti finiva anche sulla città degli animali. Ormai le due città erano un ammasso unico di macerie, non si capiva più dove cominciasse una e finisse l'altra. Lo zoo era ormai deserto, gli animali o erano morti o vagavano come fantasmi nella città fantasma. Solamente due anime erano rimaste a popolarlo. Tekla, sempre più debole e ancora intrappolata sotto le macerie, e Tobias, che anche se ora poteva esserle vicino, era stanco ed nutrito e non aveva la forza necessaria a liberarla. Tobias, tu che puoi? Vai, mettiti in salvo, non ti preoccupare per me, finiremo per morire tutti e due, sarebbe un sacrificio inutile. Tekla, tesoro mio, io non ti abbandonerò mai, riusciremo a cavarcela, vedrai. Furono giorni di pioggia quelli. Tobias raccoglieva dalle pozze d'acqua il prezioso liquido, intrufolava tra le macerie e la proboscide fino a raggiungere la mata per permetterle così almeno di bere. Era strano, era la prima volta quella che dopo mesi aveva avuto la possibilità di accarezzare tecla. Certo, sperava tutt'altra situazione, ma era comunque contento di essere riuscito a trovare un aspetto positivo in questa tragedia. Era lì, ogni istante, accanto a lei, giorno e notte, con il sole, con la pioggia, le parlava, le faceva coraggio, cercava di farla ridere, anche se era un'impresa difficile. La sua proboscide era ricoperta di tagli e ferite, ma ugualmente non smise un solo istante di fare il proprio dovere. Una notte, come tante altre ormai, il cielo tornò ad illuminarsi di nuovo. Era veramente incredibile. Ma cosa diavolo volevano ancora distruggere questi umani che ormai non era stato, non c'era più nulla in piedi? Questa volta però la bomba si dimostrò veramente intelligente, sfiorò i due e cadde a pochi metri da loro. Qualcosa su quella catasta di macerie che sormontava Tecla, mutò. Tobias si mise immediatamente al lavoro con le poche forze rimaste, cominciò a rimuovere i detriti. Tecla sto arrivando, urlava felice, ma da sotto ormai fin dalla mattina non arrivava più nessuna risposta. Ecco, ora poteva vederla. Era bellissima ai suoi occhi, anche se non sembrava muoversi più. Respirava, sì, respirava e questo era ciò che più contava. Passarono altri cinque lunghi giorni e Tobias non si spostò mai da vicino la sua amata. Pian piano le faceva ingoiare un poco d'acqua, masticava delle foglie fino a farne una poltiglia che con amore cercava di farle mangiare. Lei ogni tanto apriva gli occhi, donava un sorriso ma poi stanca tornava a richiuderli. Quando la pioggia era troppo forte, Tobias le faceva scudo con il suo corpo, stando ben attento a non fargli del male. A volte la copriva con rami e foglie per dargli un poco di riparo. La sera, stanco e distrutto, si metteva a dormire di fianco a lei con la proboscita attorno al suo lungo collo in un abbraccio protettivo. Una mattina di sole avvenne il miracolo. Tobias ancora sdraiato in terra aprì gli occhi e davanti a lui c'erano quattro gambe magre slanciate. Alzò lo sguardo e vide Tecla in piedi, ferma a godere del calore del sole. Tobias si alzò, in verità cercò di tirare un po' in dentro la pancia ma l'operazione non riuscì molto bene. Tranquillo tesoro, ognuno di noi ha la sua forma, le sue caratteristiche, si nutre e arriva da posti diversi ma come vedi quando ci si vuole bene e ci si ama nessuna differenza diventa un ostacolo, anzi è una ricchezza. Tecla bassò il suo viso fino a sfiorare quello del suo eroe che per giorni l'aveva vegliata e curata con tutto l'amore possibile, mettendo a rischio la propria vita. Perché amarsi è mettersi in gioco e dare tutto di se stessi senza paura. I due innamorati furono visti per l'ultima volta a camminare insieme sulle sponde dell'antico Tigri che ancora una volta aveva fatto da testimona ad una vicenda fantastica che non troverà spazio sui libri di storia ma nei cuori di tutte quelle persone che non hanno paura delle differenze e con estremo coraggio continuano a lottare per l'integrazione dei popoli.